E siamo di nuovo qui, abbiamo chiuso con il Muevete, qui di fianco a me Michi, finalmente rigenerata, siamo agli ultimi sgoccioli, come è andata questa grande manifestazione che ha avuto questa grande idea di proporre? Allora io direi che è andata benissimo, l'affluenza c'è stata, ma la cosa importante è che chi è venuto si è divertito, per cui il nostro obiettivo è, non dico raggiunto, ma di più, per cui come è andata? È andata benissimo. Allora io con Michi di fianco vi saluto, vi faccio tanti cari auguri di un Natale sereno, tanti auguri di Buon Natale, anche da parte mia, e poi vi invito a rimanere con noi al prossimo appuntamento, nella prossima puntata, vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo, nella sua più grande espressione. Ciao, tanti auguri.